Buongiorno amici di XM.com, bentornati a un altro mini video della sezione Telegram. Io sono Lorenzo Sentino e oggi andremo a guardare una particolare situazione del gold per capire appunto se il rialzo è finito oppure no. Vi ricordiamo anche dei webinar presenti sul canale XM. Stasera ad esempio si parlerà alle ore 19 di correlazioni tra VIX ed SP500. Guarderemo sia i due grafici sia dei grafici derivati SP500 rielaborato sulla volatilità, sul peso delle azioni e sull'equal weight. Quindi ci sarà veramente tanto materiale che farà riflettere. Materiale sicuramente inusuale e molto molto interessante. Passiamo ai grafici e andiamo quindi sul gold. Metallo prezioso, molto seguito, molto importante per sia l'industria sia naturalmente il trading online. Abbiamo visto una sezione di doppio minimo con rimbalzo, già presentato negli ultimi video. Rimbalzo perfetto al 161% di FIBO che riporta le quotazioni quindi come vedete quindi dal grafico lineare a un top di momento. Ieri momento di ribasso, oggi sembra ancora proseguire. E il caso di mettersi short è il caso di pensare che il gold sia terminato nella fase di rialzo? No, penso di no. Penso appunto che questa sia una situazione normale come quella che abbiamo visto già a metà aprile che riporta il gold sicuramente a caricare le batterie per essere pronta a un nuovo breakout rialzista. A mio avviso il target naturale di questo movimento di partenza ha come obiettivo il raggiungimento della media 200. Ovvero potrebbe essere anche il 261% di Fibonacci che andrebbe ancora a completare la cosiddetta onda 3 di Elliot Wave. Il titolo tra i più correlati, titolo azionario per chi magari non vuole tradare il gold, è Berwick Gold. La più grande azienda mineraria di estrazione appunto di metalli quali gold e arame che ha comunque un movimento molto simile. Vedete la reazione sui minimi, il rialzo fino a due giorni fa e tra l'altro qui ho messo un conteggio delle nonne di Elliot ma di Wolf spiegato ieri sera che con perfezione ci ha fatto fare un long che è arrivato a un profitto dall'open al close del 9,5% contro un rischio del 7%. Adesso anche qui c'è da chiedersi, è il caso di aspettare una correzione, è il caso di ricomprarlo? A mio avviso andando a monitorare questo movimento che io qui considererei quindi un movimento di rimbalzo importante e fissandolo appunto sulle votazioni di apertura e chiusura abbiamo un 161% che ci esprime ancora un po' di fase di rialzo. Quindi valuterei questo titolo in buy nel caso in cui riesca a creare un piccolo pullback magari sulla zona del 100% di Fibonacci per poi rigirarsi di nuovo long. Quindi questa è una delle ipotesi che sto portando in conto nei miei trade e che quindi cercherò di approfittarne in caso di questo movimento. Se invece dovesse continuare la salita non salirò su un cavallo in corsa e attenderò invece qualche altro movimento che poi successivamente andremo a studiare assieme. Grazie per l'attenzione e vi aspetto stasera alle ore 19. Nobbi Nobbi